La partita è difficile per un tempo, anche con le soffianze, sulle fasce, no? Sì, io penso dal mio punto di vista, poi ognuno la vede a modo sola la partita. Penso che comunque sia il primo tempo, non è che non c'eravamo, ma siamo stati un po' troppo arrembanti, ci siamo un po' disuniti nell'offendere e loro hanno sfruttato tutte le ripartenze, perché abbiamo preso tre gol, penso tutti e tre su ripartenza, e loro poi sono stati civici e bravi a concludere le relazioni. Quindi penso che c'è stata la reazione, dato che non vuole iniziare lì, poi andavamo con una grande chance con il vigore, probabilmente ce l'ha, sembra banale, però non so, probabilmente ce l'ha dato più bisogno, definitivamente. Noi, noi, prima un tempo, un termistico ha cercato di darci, di incoraggiarci, di darci più forza possibile, si è visto, è una reazione necessaria al secondo tempo. Siamo stati subito bravi a fare gol, poi dopo due minuti mi hanno preso il rigore, e sì, diciamo che un po' ci ha scoraggiati, però non ci siamo, comunque, non ci siamo arresi e abbiamo continuato a cercare di creare qualche azione pericolosa, non riuscendoci, solo cross, qualche punizione, ma nulla è andato a buon fine. Una gioia un po' a metà, per esempio voi. Una piccola gioia. Poi le risultate che si è andata. Sì, perché 3 a 1, poi avevo preso la munizione in più tempo, quindi salti da Vascoli, è una gioia amare, diciamo. A posto? Sì, grazie. Grazie.